Musica Bentrovati, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura protagonisti sono i due fiumi di Alessandria. Dopo il ponte Meyer, infatti sul Tenoro, è necessario costruire un secondo ponte sullo fiume Bormida, quello esistente e vecchio e a breve potrebbe non sopportare più né il traffico né le piene. Per mettere in sicurezza gli abitanti della Fraschetta è quindi assolutamente necessario un secondo ponte sul fiume. Lo hanno detto il capo della protezione civile, Franco Gabrielli, ed il sindaco di Alessandria, Rita Rossa, durante un sopralluogo avvenuto in questi giorni. Ma ci racconta tutto Franco Capone. L'esigenza di mettere in sicurezza e soprattutto la realizzazione di un secondo ponte sul fiume Bormida, ha detto il sindaco di Alessandria, Rita Rossa, durante la visita del capo della protezione civile, Franco Gabrielli, nasce dall'assoluta necessità di mettere in sicurezza 16.000 persone che abitano e lavorano al di là del fiume Bormida, verso Spinetta Marenco e l'intera zona della Fraschetta. Ecco perché la visita del capo della protezione civile nel posto in cui potrebbe sorgere il secondo ponte. Ma come ha evidenziato lo stesso prefetto Gabrielli, non si può più pensare che i rischi e la loro gestione siano solo una questione pubblica. Dobbiamo coinvolgere anche i privati. Guardando poi il vecchio ponte Bormida, ha affermato che questo viadotto è vetusto e non può più leggere tutto il traffico e le campate sono vecchissime per sostenere le piene. D'accordo con il sindaco Rossa, il capo della protezione civile ha affermato che serve realizzare subito un altro ponte. Gabrielli, poi nel visitare la struttura di lavorazione del ponte Meier sul Tannoro, ha detto Una ricostruzione che per fortuna in questo territorio si è realizzata e si è realizzata nel migliore dei modi. Ed è un modo intelligente per far comprendere la fragilità dei nostri territori. E poi, mentre prosegue la visita al cantiere del ponte Meier, Gabrielli ha affermato che dopo l'alluvione sono stati spesi miliardi senza che si sia mai aperto un'inchiesta, una contestazione, nemmeno un'insinuazione. Eppure i soldi investiti per la messa in sicurezza sono davvero tanti. 150 miliardi di vecchierire dal 1994 ad oggi. Rimaniamo in tema, l'Alessandrino Marco Merchiorre è proprietario di parte degli Argini sul fiume Bormida che vengono utilizzati da coloro che normalmente corrono e che è un percorso ideale perché è immerso nella natura e lontano dalle automobili. Adesso il Comune di Alessandria vuole far diventare quello un parco naturale, ma per questo progetto il proprietario non è stato interpellato, dice che nessuno mi ha coinvolto, allora basta, vieterò l'accesso. Naturalmente le migliaia di Alessandrini che vanno ciclicamente a correre sugli Argini non accettano questa decisione e chiedono che si arrivi a un compromesso. Tra quelli che corrono sugli Argini c'è anche la campionessa Valeria Straneo. Il piano presentato dal Comune si chiama COTABO che significa Confluenze, Tannolo, Bormida e Orba. Ma vediamo il servizio. Ad Alessandria la chiusura degli Argini sul fiume Bormida, quelli dove si va a correre, è diventata improvvisamente the talk of the town, l'argomento di cui si parla di più in città e primo in classifica non solo nelle discussioni da bar, ma anche nei social network, sui giornali, online e non. La paventata chiusura è stata come un fulmine a cessereno che ha richiamato l'attenzione di tutti dopo che è iniziata la querella tra Comune di Alessandria ed il proprietario di parte dei terreni che si trovano sugli Argini. Proprio a partire da oggi, infatti, dovrebbero abbassarsi le sbarre che segnano l'inizio del territorio privato, con il rischio che chi supera lo sbaramento rischierà una denuncia. Una presa di posizione che colpisce tutti gli alessandrini che amano correre e tenersi in forma e che lo fanno nel percorso Argini-Bormida. Mezza città, ciclicamente, da decenni, si reca su quelle piste naturali che iniziano vicino alla sede dell'Amiu, in zona cimitero, e si inoltrano tra i campi. Non ci sono auto, si corre in mezzo alla campagna, vicino a fiume Bormida e quindi alla natura. E' proprio la vicenda legata alla natura che sta facendo esplodere il conflitto di interpretazioni. Il Comune di Alessandria, l'assessore competente Claudio Lombardi, ha reso noto che c'è un progetto per chiedere finanziamenti alla Comunità Europea e dalla Regione Piemonte per l'istituzione della zona naturale di salvaguardia, ai sensi della legge regionale numero 19, articolo 52, denominata Parco Fluviale delle Confluenze, e ne allegano planimetria come parte integrante e sostanziale. Per l'assessore Lombardi è l'antropizzazione, l'eccesso di interventi umani, che è la cosa da combattere, ma per il proprietario dei terreni, Marco Melchiorre, la parte minima che bisognava prendere in considerazione era di coinvolgere proprio in questo progetto i proprietari dei terreni. E adesso dice in una sua lettera pubblicata il nostro modesto contributo a questa discussione che ci vede nostro malgrado coinvolti è che prima di lanciarsi in operazione di cui non si conoscono i benefici e magari neppure le conseguenze dirette e indirette, insomma, che si parli di antropizzazione, ci si concentri prima sulla riqualificazione di quelle aree quali ad esempio i giardini pubblici della stazione, fortemente e mal antropizzate, in cui non farà fatica a trovare molti esempi di degrado nei più svariati habitat e non sono certamente gli agricoltori ad aver causato i problemi del degrado del fiume, non sono ascrivibili alla forte antropizzazione, alla gestione agricola e zootecnica e alle opere di trasformazione, arginazione, escavazione e opere sul fiume stesso. Quindi si chiede un confronto in cui si possano trovare dei punti di contatto ed essere quindi tutti coinvolti nel progetto per il futuro di questa parte del fiume Bormida. E adesso parliamo di Terzo Valico. Gli esponenti della CISL Piemonte chiedono di procedere velocemente con i lavori per la realizzazione del Terzo Valico. Ce ne parla Enrico Maria. Sul Terzo Valico, avanti tutta. Questa la linea della CISL. Dopo il via libera della Giunta regionale del Piemonte alla bozza del protocollo d'intesa sul Terzo Valico, sottoscritta da Regione, Consorzio Cociv e dalle organizzazioni sindacali piemontesi e dalle sandrine di CGL, CISL, Will, Feneal Will, Filca CISL e Filea CGL, la CISL chiede infatti di procedere a un passo spedito nella realizzazione dell'opera. Si tratta di un testo molto importante, ha dichiarato Piero Donnola, segretario generale della Filca CISL Piemonte, perché prevede la partecipazione alle azioni previste dalla legge regionale Cantieri Sviluppo Territorio per quanto riguarda le opere connesse alla realizzazione del Terzo Valico dei Giovi. Donnola in merito, inoltre, ha voluto sottolineare riferimento alla gestione responsabile della sicurezza, dell'occupazione, della salute e delle maestranze, delle ricadute economiche locali, del presidio sanitario ed ambientale e del rispetto della legalità. Tra le misure previste dal testo c'è l'attivazione di un apposito gruppo di lavoro, con il coinvolgimento anche dell'assessorato alla salute e al lavoro della Regione, per garantire un presidio sanitario in prossimità dei cantieri. Inoltre, c'è uno sforzo per escludere il rischio di infiltrazioni criminali e per privilegiare aziende e manodopera del territorio. In particolare, ha sottolineato Donnola, le assunzioni saranno rivolte ai lavoratori espulsi dal ciclo lavorativo, anche attraverso percorsi di riqualificazione professionale, utilizzando la scuola edile. Infine, si prevedono, affermato il segretario generale della Filca Cisle Piemonte, agevolazioni per il personale fuorisede, nel caso in cui non ci fossero alloggi presso i campi base. Gli stanziamenti già approvati dal Cipe per il primo e secondo lotto sono pari a circa 1 miliardo e 340 milioni di euro. Positivo anche il commento di Alessio Ferraris, segretario generale della Cisle Piemonte. Per Ferraris si tratta di un accordo significativo e da tempo sollecitato, che apre vantaggi e tutele aggiuntive ai lavoratori e che dà ai territori interessati un'opportunità di essere economicamente coinvolti. Ferraris infine sottolinea una valenza politica, ovvero la sottoscrizione congiunta di Filca e Cisle, a suggellare un indirizzo politico sul tema delle infrastrutture. Non ultimo, questo accordo per Ferraris crea le precondizioni per far sì che l'opera sia percepita in trasparenza dai cittadini che abitano i territori interessati. Ciò, secondo il segretario generale della Cisle Piemonte, depotenzia le sterili contrapposizioni a prescindere, a cui troppe volte, a suo avviso, si è assistito. E adesso nella prossima notizia di cronaca giudiziaria, protagonista è un sotto ufficiale dell'arma dei carabinieri che si è detto estraneo all'accusa di circonvenzione per il quale il Pubblico Ministero invece ha chiesto la condanna a un anno e sei mesi. Il processo è stato però aggiornato al prossimo mese di giugno. Ce ne parla Emma Camagna. Non sono affatto responsabile di quella circonvenzione di incapace. È la tesi di Giuseppe Fornaro, maresciallo dei carabinieri di 49 anni Rivarone, ma per l'accusa agì sia pur in modo marginale con i coniugi Carmine Orzelleca e Rita Borello di Mugarone, che a suo tempo, pur negando a loro volta, hanno patteggiato rispettivamente un anno e un anno e quattro mesi. Per il sotto ufficiale, il PM ha proposto la condanna a un anno e sei mesi, sentenza giugno. I fatti risalgono periodo che va dal 2003 al 2007, quando Cesare Bollino, ora morto, un anziano cieco dall'età di 14 anni per le lesioni riportate in un bombardamento aereo della Seconda Guerra Mondiale, fu spogliato di 350.000 euro. L'avvertenza è scaturita dalla denuncia delle figlie di Bollino, che beneficiava di una ricca pensione. Dissero che i coniugi lo avevano ospitato in casa loro in pessime condizioni di igiene e sicurezza, comportandosi in modo da allontanarlo dalla famiglia e prendersi i suoi beni. Sempre per l'accusa, insieme a Fornaro, lo convinsero a sostenere le spese di ristrutturazione dell'alloggio della coppia. Il gioco d'azzardo è un fenomeno che esiste anche tra gli adolescenti. Se ne è parlato questa mattina in un convegno organizzato dall'Osservatorio sull'Usura in Consiglio regionale. Da Palazzo Lascaris è arrivata anche la proposta di un disegno di legge regionale per contrastare il gioco d'azzardo e dare supporto ai sindaci piemontesi contro questo fenomeno. Sentiamone al servizio. 176 euro l'anno a testa è la cifra spesa nella sola provincia di Torino per il gioco d'azzardo. È la terza provincia d'Italia per uso e abuso di newslot, videolotterie e slot machine. Nel resto del Piemonte la situazione non è molto diversa. A Verbagna la media è di 831 euro, a Vercelli 747, ad Asti 746, chiude Viella con 515 euro a testa. Sono alcuni dei numeri diffusi in Consiglio regionale nell'ambito del convegno organizzato dall'Osservatorio sull'Usura dedicato al tema del gioco d'azzardo. Un'emergenza figlia del caos normativo oltre che della nuova povertà che vede i minori particolarmente esposti. Il fenomeno è un fenomeno da tenere in considerazione. Ci sono giovani che cadono in percorsi ovviamente critici e complessi e diciamo che non sappiamo quanto poi il fenomeno ad oggi si è effettivamente emerso e quanto questi siano semplicemente diciamo così le avvisaglie di un fenomeno più esteso che sicuramente si connette anche con le difficoltà sociali di questo momento. Per quanto riguarda il gioco online, l'ultima indagine di telefono azzurro ad Eurispes dice che all'interno del 12% degli adolescenti che si dichiarano giocatori solo il 2,5% lo fa spesso. Molti di più quelli che si siedono davanti a un videopoker di bar, edicole e sale giochi. Il 27% dei ragazzi tra i 12 e i 18 anni gioca, il 4,6% di loro lo fa spesso, il 10,4% solo qualche volta. Quali gli strumenti per prevenire e per affrontare un problema del genere? Noi riteniamo l'informazione, la cultura della legalità, la cultura dell'uso responsabile del denaro, far capire ai giovani quanto certi sogni o aspettative semplici e farglielo capire da giovani già, perché il problema non si manifesti poi in età più adulta, sia semplicemente delle chimere, degli inganni che non portano nulla se non il manifestarsi di problemi molto più gravi e molto più dolorosi anche nel loro manifestarsi successivo. Una comunicazione o un'informazione è contrastata da un bombardamento invece di messaggi opposti, vincere è facile, insomma il gioco d'azzardo è una buona strada. Infatti è un compito molto difficile, però io credo che sia necessario affrontarlo e dire le cose per quello che sono. Questo poi io credo che debba fare un'istituzione sana, dire le cose come sono, dire la verità, poi ovviamente sta al libero arbitrio di ciascuno di noi quello di fare le scelte che ritiene migliori per la propria vita, però almeno avere gli elementi utili per fare queste scelte con cognizione di causa. Alla presenza del prefetto di Alessandria Romilda Tafuri e del sindaco di Alessandria Rita Rossa, la Paglieri Sales System ha presentato ufficialmente l'iniziativa promossa proprio dalla Paglieri Sales System, che è leader nel mercato degli accessori per capelli, di sostenere il progetto dell'associazione Medea per dare il proprio aiuto alle donne vittime di violenza. L'azienda è stata affermata e vuole sostenere chi si prende cura dell'esigenza delle donne con il massimo impegno e serietà attraverso la promozione sociale che ha messo al centro dell'iniziativa soprattutto le donne in difficoltà, appunto vittime di maltrattamento e di violenza. La presidentessa di Medea Sara Scaluzzero ha detto di essere grata alla Paglieri Sales System per aver scelto di sostenere l'attività svolta dall'associazione devolvendo alla stessa parte del ricavato della vendita dei propri prodotti. La presidentessa ha anche concluso affermando che l'occasione è un momento positivo per la festa della donna e un aiuto completo per augurarsi che sia sempre più la festa delle donne, libere dalla violenza. Adesso veniamo ai tre minuti con Maurizio Silvestri, questa volta è andato a trovare il sindaco di Acquiterme che ha attivato il servizio di avvisi alla popolazione via SMS. Vediamo il servizio. Allora, oggi questi tre minuti li invitiamo qui ad Acquiterme. Sono qui con il signor sindaco Bertero. Buongiorno signor sindaco, sono contentissimo di essere qua perché? Perché a parte l'iniziativa bellissima che ha avuto, quella di mandare i messaggini sul cellulare. Ogni tanto suona il cellulare e si sente la sua voce che dice Buongiorno, sono il sindaco Bertero, volevo dirvi che... Ebbè, siamo venuti giù oggi perché è arrivato un messaggino molto importante. Dice, attenzione, no? Era un avvertimento soprattutto per le persone anziali. Assolutamente, abbiamo circa 5-6 mila persone che sono collegate a questo servizio. E' un servizio che abbiamo attivato dallo scorso anno, ci costa un abbonamento di poco più di 2.000 euro all'anno e possiamo andare fino a un milione di messaggi. Ecco, noi lo utilizziamo quando c'è una frana, ma possiamo anche sezionare quando c'è una mostra, quando c'è, e dare qualche avvertimento. E purtroppo nella zona di Acqui, anzi nella città di Acqui, la settimana scorsa sono avvenuti 4-5 furti in appartamento. A volte ad alloggio chiuso, a volte c'era l'anziano dentro. Allora abbiamo pensato proprio di mandare questo messaggio a tutte le persone. E tra l'altro, per fortuna, notizia di ieri sera, stanotte, ha dato già i suoi frutti. Ieri i vigili urbani, insieme ai carabinieri, perché c'è una proprio forte e grossa collaborazione tra vigili e carabinieri, sono riusciti ad intercettare una macchina sospetta, quella proprio quella famosa Golf Blue, eccetera, che si supponeva fosse, di fatti, in una perlustrazione dei vigili urbani in combinazione, ma c'erano anche i carabinieri poco distanti, è stata intercettata, bloccata in una strada senza uscita, ha acceso la sirena, c'è l'ampeggiante. Questi qua sono spariti, però ci sono tutte le impronte digitali. Cioè, il lavoro di intelligence, come si usa a dire, viene fatto. La macchina è stata sequestrata, quello è importante. La macchina è sequestrata, riteniamo, anche perché proprio qua qui è sempre stata abbastanza un'isola felice. Ecco, signor Sindaco, quindi bisogna cercare di stringere sempre di più la morsa per far sì che questi capiscono che sono seguiti e sono guardati a vista e quindi o vanno via oppure si comportano da cittadini, come si deve. Esatto, è l'unica cosa che noi chiediamo, perché per tantissime persone che ci sono, italiani o stranieri, che ci danno una mano, che lavorano, che pagano l'IRPEF a noi e tutto, ma noi ci togliamo il cappello e ringraziamo che ci siano. Però per gli altri scansafatiche, per gli altri delinquenti, per gli altri disgraziati, che non fanno un piffero tutto il giorno e che sono soltanto dei parassiti, che pesano per la società, per la città di Acqui, ma Acqui lo moltiplichiamo per 8.048 comuni. Sono dei parassiti questa gente qua, non ne abbiamo bisogno. Esatto, vadano pure, vadano pure, le apriamo le porte. E poi possiamo anche dire che il cittadino può anche aiutare voi, da dire, chi vedesse qualcosa di strano, qualche personaggio losco, o qualche macchina strana, può avvertire qualcomune. Assolutamente, 0144770270. Chi volesse invece essere informato tramite cellulare dei vostri messaggini? Assolutamente, avverta sempre lo stesso numero, i vigili urbani, 0144770270, edica semplicemente il numero di cellulare, aggiungetemi alla lista. E noi siamo a disposizione e grazie a questo vedrete che Acqui continuerà a essere un'isola fede. È una bellissima iniziativa, veramente, io l'ho provata e serve tantissimo. Signor Sindaco, grazie, noi vi treremo sempre di più aggiornati e se c'è qualcosa, qualche novità, noi arriviamo. E con voi ci vediamo ai prossimi tre minuti. Grazie. E allora, adesso ritorniamo a parlare del giornato della donna. Sono state tante le iniziative, in particolare un convegno a Castelletto d'Orba sul tema dei diritti delle donne sul lavoro. Ce ne parla Bruno Mattani. Varie sono state le iniziative nell'Ovadese per celebrare la festa della donna, in occasione della ricorrenza a livello internazionale. Di particolare interesse è quella organizzata a Castelletto d'Orba, organizzata dall'Associazione Insieme per Castelletto, un momento importante di riflessione sul tema donne, diritti e lavoro. Un dibattito moderato dal senatore Federico Fornaro, con la presenza di Franca Repetto, vicepresidente del Consorzio Servizi Sociali dell'Ovadese, Sabrina Caneva, del Centro Pace Rachel Corri, e in particolare la partecipazione dell'assessore regionale al lavoro e all'istruzione, Gianna Pantenero. E oggi credo che le donne paghino il prezzo più alto di una crisi difficile, che attanaglia una regione come la nostra, che attanaglia il nostro paese, ma sicuramente le donne sono quelle che pagano il prezzo più alto, perché intanto sono le prime che lasciano il proprio posto di lavoro e che comunque di fronte a una situazione di difficoltà restano a casa, perché ci sono gli anziani da assistere, i figli a cui badare, e quindi sono quelle che oggi, dai dati che noi abbiamo a disposizione, hanno pagato di più all'interno di una regione come la nostra. Ecco, credo che la regione quello che può fare è cercare davvero di mettere tutti gli strumenti che ha a disposizione, ad esempio i fondi comunitari, dove una delle azioni più importanti che la comunità europea ci chiede di fare è appunto individuare azioni a supporto delle donne, perché possano continuare ad avere un ruolo all'interno del mercato del lavoro e ovviamente conciliare con quelli che sono i tempi della vita familiare e della vita complessiva all'interno della propria famiglia appunto. Altra iniziativa degna di rilievo a Silvano d'Orba, dove nella biblioteca comunale ci sono stati momenti di intensa partecipazione nell'ambito della serata Voci, Storie e Passioni di Donne. L'incontro è organizzato dal Comune di Silvano e attraverso testi e letture libere e aperte a tutti è stato possibile sviluppare appunto attraverso voci, storie e passioni di donne interessanti tematiche. In tale ambito è stata anche inaugurata una mostra fotografica sul tema di Lucia Bianchi. Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento con l'informazione. Tra poco dopo la sigla ci sarà lo sport. Oggi spazio al calcio con l'Alessandria che contro il Pordenone ha conquistato tre punti importanti, vincendo per 1-0 nonostante le tante assenze. Match winner di giornata il centrocampista brasiliano Mesavilla con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Grazie a questo successo i grigi rimangono al comando della classifica in Lega Pro con un punto di vantaggio sul Novara e due sul Pavia. Tra poco particolari nel servizio di Gianluca Ardiani e poi come sempre le previsioni del tempo e le notizie utili. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Grazie per l'attenzione e arrivederci.